Il successore di Windows 10 sta per arrivare e chiaramente si chiamerà Windows 11 Ciao sono Zane di Turbola.it e in questo video daremo proprio un'occhiata al successore di Windows 10 al nuovissimo Windows 11 che dovrebbe essere rilasciato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 Se quindi vuoi dare un'occhiata alla prossima generazione di Windows, seguimi Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno Prima di entrare nel vivo della trattazione e vedere cosa c'è di nuovo in Windows 11 dobbiamo precisare che la build che stiamo per vedere è di anteprima Si tratta quindi di una versione all'inizio del ciclo di sviluppo di Windows 11 che sicuramente verrà affinata strada facendo Ciò premesso ci sono comunque tante novità molto interessanti in questa build d'anteprima A saltare subito all'occhio non appena avviamo un PC con Windows 11 è la nuova interfaccia grafica sicuramente molto moderna e nota internamente con il nome in codice di Sun Valley In realtà non è la prima volta che vediamo questa nuova interfaccia grafica in azione perché come gli appassionati del mondo Windows probabilmente ricorderanno aveva già debuttato con Windows 10X la versione per i foldable quindi gli smartphone di prossima generazione che Microsoft aveva iniziato a sviluppare durante il 2019 e 2020 ma che poi ha abbandonato a metà 2021 La novità più evidente che salta subito all'occhio è la disposizione delle icone sulla barra delle applicazioni quindi in particolare questo è il nuovo pulsante start che ora è appunto centrato sullo schermo e non si trova più nell'angolo in basso a sinistra come tale dopo tutte le altre icone delle applicazioni in esecuzione quelle che bloccheremo le nostre preferite sulla barra D delle applicazioni vengono quindi aggiunte dopo il menu start e tutto quanto viene appunto allineato al centro Niente paura però chi non gradisce la nuova impostazione può comunque riportare il pulsante start nell'angolo sinistro modificando una semplice impostazione Dal punto di vista grafico le icone come vediamo sono completamente piatte trasparenti e quindi sono perfettamente integrate sulla barra delle applicazioni L'effetto però che si ottiene passando con il cursore del mouse sulle singole icone è sicuramente molto interessante perché appare appunto questo grazioso bordino che ci permette di identificare quale applicazione verrà concretamente avviata in caso procedessimo con il click Per il momento non c'è nessuna di queste applicazioni in esecuzione e riusciamo a vederlo perché appena apriamo appunto le applicazioni come vediamo qua sotto compare un segmentino grigio che ci permette di capire quali applicazioni sono in esecuzione e quali sono semplicemente state bloccate e sono pronte sulla barra delle applicazioni Ora io ho già utilizzato parecchio Windows 11 in questi giorni e già mi sono accorto di una cosina che non mi piace moltissimo in particolare l'aver spostato il pulsante start qui al centro implica che per cliccarlo appunto per avviarlo dobbiamo mirarlo con precisione mentre in precedenza invece bastava semplicemente muovere bruscamente il cursore e cliccare un po' alla ceca verso l'angolo di sinistro per far comparire il menu quindi ora l'apertura del menu start richiede un po' di mira e di precisione mentre prima lo potevamo fare con un movimento molto più grezzo e quindi era anche molto più veloce da raggiungere ma clicchiamolo il nostro pulsante start ed eccolo qua come abbiamo visto si presenta una piccola animazione che ci sottolinea appunto l'apertura del menu e cambia anche il colore eccolo qua questo che stiamo vedendo in questo momento è il nuovo menu start a saltare subito all'occhio è il fatto che Microsoft finalmente ha rimosso quel bruttissimo bordo semi trasparente che era invece posizionato dietro a tutte le icone sul menu start di Windows 10 questo bordo non c'è più e quindi tutte le icone sono perfettamente integrate nel pannello e il colpo d'occhio è veramente veramente fantastico perché appare con un look moderno e pulito che sicuramente costituisce un balzo in avanti notevole rispetto a Windows 10 anche perché come vediamo queste sono tutte icone tradizionali ma non ci sono più le cosiddette live tile ovvero quei rettangoloni che si aggiornavano con le ultime informazioni che erano state introdotte da Windows 8 ma erano state ereditate anche da Windows 10 sono completamente sparite e tutte queste sono icone piatte tradizionali di programmi che possiamo avviare notiamo anche che le nuove applicazioni fornite a corredo utilizzano il nuovo set di icone che però non è una novità assoluta di Windows 11 perché sono già state inserite appunto nell'ultima generazione di Windows 10 ovvero quel Windows 10 21 H2 che verrà rilasciato tra ottobre e novembre 2021 per impostazione predefinita oltre alle app fornite a corredo di Windows 10 come appunto mail e calendar abbiamo anche alcune applicazioni tipo Spotify o Netflix che vengono qui proposte di default anche se non sono realmente installate sono quindi pronte per essere avviate quando ci facciamo clic vengono scaricate e installate automaticamente tramite Microsoft Store e vengono poi aperte quindi sostanzialmente questa è una posizione nella quale per impostazione predefinita mantenendo le impostazioni predefinite di Windows 11 Microsoft fa un po' di pubblicità alle applicazioni del Microsoft Store e probabilmente anche ai propri partner bene tutta quest'area chiaramente è personalizzabile quindi se ad esempio non ci piace Netflix possiamo cliccare con il pulsante destro sull'icona e fare uninstall per rimuovere completamente l'applicazione oppure fare unpin per rimuovere l'applicazione dal menu start facendo clic sul pulsante all apps invece qui in alto abbiamo la visualizzazione di tutte le applicazioni e tutto quello che è stato installato sul computer ora come vediamo in questa specifica build la visualizzazione è ancora forse un po' greza perché fondamentalmente c'è un sacco di spazio sprecato qui sulla colonna di destra è comunque presumibile e almeno lo spero che nelle prossime build Microsoft ottimizzi un po' la gestione dello spazio e mostri o alcune informazioni aggiuntive sulle specifiche app oppure ancora meglio utilizzi un'impostazione, un layout a due colonne che permette di utilizzare anche questo spazio e quindi rendere molto più densa la visualizzazione e visualizzare quindi molte più applicazioni per singola schermata senza costringersi come stiamo facendo in questo momento a scrollare per vedere anche tutte le altre applicazioni installate bene ma torniamo indietro in particolare la seconda sezione del pannello principale del menu start questo raccomandate che vediamo qua sotto che cosa contiene le ultime applicazioni installate o aggiornate e se abbiamo appunto attivato anche la sincronizzazione con OneDrive come ho fatto io qui abbiamo la possibilità di accedere rapidamente ai file di OneDrive chiaramente cliccando qua sul pulsante more possiamo accedere ad una lista che come già vediamo rispetto alla precedente è già molto più curata perché ci offre anche numerose informazioni sugli ultimi file come ad esempio la data di creazione e il percorso nel quale si trovano questi ultimi file infine qui sul menu start anche se non è immediatamente intuibile questo è un pulsante che ci permette di accedere ad alcune impostazioni sul nostro account utente oppure di bloccare il computer o eseguire il logout dall'altra parte invece questo piccolo pulsante racchiude le impostazioni per spegnere o riavviare il PC bene proseguiamo veloci con le altre icone questo è la lente di ingrandimento che come vedete qui è completamente nera questo effetto ve lo faccio rivedere perché secondo me è bellissimo è completamente nera ma quando si apre appunto viene aggiunta una spruzzata di colore che secondo me è molto carina per il resto il pannello di ricerca è lo stesso che è utilizzato già da Windows 10 e quindi per il momento non c'è molto altro da vedere proseguiamo ancora questa altra icona è il task view quindi la visualizzazione attività di Windows 10 qui sostanzialmente è rimasta la stessa con la differenza che è stata aggiornata la visualizzazione quindi qui le anteprime hanno dei bordi e dei angoli arrotondati però per il resto abbiamo sempre la possibilità di creare dei nuovi desktop rinominarli e fare tutta la nostra gestione appunto dei desktop multipli come già siamo abituati a fare su Windows 10 bene torniamo indietro questo altro pulsante invece è una novità di Windows 11 si chiama appunto widgets e una volta cliccato apre questo pannello in sovraimpressione che in questo momento si limita a visualizzare le previsioni del meteo e un po' di informazioni e di ultime notizie in realtà a ben vedere questo pannellino altro non è che il pannello che si apre già oggi su Windows 10 cliccando sull'odiatissimo notizie e interessi ovvero il piccolo sole che ormai tutti ci siamo ritrovati vicino all'orologio e al quale ho dedicato un approfondimento qualche tempo fa ebbene Microsoft in questo Windows 11 pare aver preso i contenuti di notizie e di interessi e averli inseriti per il momento in questa lunga colonna qui di fianco appunto nella schermata dei widget la speranza chiaramente è che Microsoft sviluppi e renda disponibili altre applicazioni quindi altri widget che potrebbero essere aggiunti e personalizzati in quest'area un'altra impressione secondo me potrebbe essere quella che Microsoft decide di riutilizzare i live tile quindi appunto come dicevamo prima le icone animate sempre aggiornate ma consente appunto di aggiungerle a questo pannello dei widget invece che all'interno dei menu start se così fosse sarebbe sicuramente una trovata molto interessante perché manterrebbe comunque ordinato il menu start senza però privarci se così desideriamo della possibilità di utilizzare il live tile in un'area separata l'altra novità sicuramente molto interessante di Windows 11 la vediamo aprendo una finestra come questa e ci ritroviamo ad esempio questo è esplora file ci ritroviamo tutte le icone colorate e aggiornatissime ora di nuovo questa non è una novità di Windows 11 perché questo set di icone è presente anche appunto in Windows 10 21 H2 aggiornamento di ottobre o novembre 2021 avrà appunto queste stesse icone per il resto in questo momento la gestione generale in impostazione generale di esplora file è rimasta inalterata però c'è una piccola novità passando con il cursore del mouse qua sopra sul pulsante appunto che permette di ingrandire la finestra ci viene offerta la possibilità di scegliere il posizionamento di questa finestra e quindi rapidamente ridurla alla dimensione indicata ad esempio se clicchiamo su questa selezione come vediamo viene spostato automaticamente il nostro esplora file nell'area qui a sinistra ma la vera figata di questa funzionalità la vediamo quando abbiamo molteplici applicazioni aperte in questo caso quindi se passiamo con il cursore del mouse sempre sullo stesso comando abbiamo appunto la possibilità di spostare e agganciare rapidamente la finestra fino a farlo occupare una porzione di schermo ma subito dopo parte l'assistente allo snap perché possiamo scegliere la finestra da affiancare ora chiaramente questa non è una novità in senso assoluto ovvero anche su Windows 10 potevamo ottenere questo comportamento trascinando qui appunto le nostre finestre verso i bordi dello schermo oppure verso gli angoli se per caso volevamo occupare solo un quarto dello schermo però chiaramente questa modalità di selezione è sicuramente molto più pratica è molto più veloce da utilizzare senza bisogno appunto di trascinare le finestre ora derivando direttamente dall'ultima build di Windows 10 in circolazione Windows 11 eredita tutte le novità che vedremo da qui ai prossimi mesi in particolare c'è il supporto a DNS over HTTPS l'avviso per le applicazioni in esecuzione automatica il pannello delle emoji potenziato i miglioramenti alla funzione di cronologia degli appunti quindi quella che compare quindi il pannelletto che compare quando premiamo il pulsante win insieme al tasto V la rimozione delle funzionalità per la creazione 3D il Windows terminal integrato e tutto il resto vi lascio l'articolo completo con tutte le funzionalità delle prossime versioni di Windows 10 qua sopra se volete approfondire bene vi ho raccontato un po' tutto quello che c'è di nuovo in questa build di Windows 11 se vuoi provarla tu stesso in prima persona ti lascio qua sopra il link al video che ho pubblicato qualche giorno fa con tutte le istruzioni per scaricare l'immagine ISO di Windows 11 e poi per installarla sul tuo stesso PC così puoi smanettare e provarla tu stesso da Zanditurbla.it è tutto come al solito i commenti qua sotto sono a disposizione fammi sapere cosa te ne pare del nuovo Windows 11 se ti piace, se sposterai di nuovo il pulsante start nell'angolo a sinistra oppure se lo manterrai allineato al centro quali sono le tue impressioni sulle funzionalità di snap e in particolare tutto quello che ti salta in mente se invece il video ti è piaciuto come al solito ti chiedo di lasciarmi un mi piace cliccando sul pulsantone qua sotto per me è sempre estremamente importante quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per cliccarlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia Windows, Linux, Internet, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech non dimenticare invece di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sul piccolo campanello di fianco mi raccomando non dimenticare la campanella al prossimo video ciao